Siamo col mister del Sofome, la partita il Sofome ha vinto 2-1 sul Gasperina, mister, come ha visto la sua squadra oggi? È stata una bella partita, molto combattuta, su un campo un po' pesante per la pioggia, è stata combattuta fino all'ultimo, infatti abbiamo vinto all'ultimo minuto con un rigore. Grazie anche a un Gasperina molto organizzato in campo, molto preparato, spero di ritrovarci nell'alto della classifica insieme al Gasperina perché è anche una squadra molto importante. Secondo voi il Gasperina è all'altezza del campionato? Sicuramente, sono le prime partite, ancora presto dare un giudizio, ma credo vedendo la partita di oggi, giudicando quello che ho visto oggi, sarà una delle avversarie più competitive. Siamo con il giocatore del Gasperina, Marco Chiarelli. Marco, questa sconfitta non ci voleva oggi, vero? No, non ci stava, anche se nel primo tempo abbiamo giocato discretamente bene, anche se abbiamo subito il primo gol, siamo riusciti a fariggere la partita, a riportare la partita in un buon risultato. Poi nel secondo tempo siamo entrati con quella poca cattiveria e infatti nei minuti finali la squadra avversaria è stata brava a mettere a segno il calcio di rigore. Gasperina, diciamo, la seconda partita che perde fuori casa non ha meritato a mente, diciamo? No, questa partita meritava un finale diverso, secondo me, mentre l'altra a Casabona abbiamo meritato di perdere, secondo me. Grazie. Grazie a tutti.